Al via al circolo della stampa di Avellino, la Expo Benessere in Irpinia. Due giorni di esposizione, incontri culturali e laboratori su benessere, prevenzione e salute. Informazione e aggiornamento sulle attività, tecniche e discipline che nutrono, curano e arricchiscono in maniera sinergica il corpo, la mente e lo spirito, come leggiamo nella nota che introduce la mission dell'iniziativa. Si tratta di un evento unico nel suo genere perché il tema del benessere è affrontato a 360 gradi e per questo meta di appassionati, praticanti e operatori provenienti da tutta la regione Campania. Benessere in Irpinia ospiterà incontri ai scientifici con lo scopo di creare sinergie di intervento multidisciplinari tra diversi specialisti. L'evento rientra nell'ambito del format Benessere in dell'associazione Farma e Benessere di Marco Barone, una Expo interamente dedicata allo studio, all'innovazione, al cambiamento e all'attenzione mirata al benessere dell'uomo e dell'ambiente. Al centro della manifestazione aziende, produttori, enti, istituzioni, sia pubbliche che private, equilibrio, consapevolezza, relax, consumo di alimenti sani e genuini, ricorso a pratiche spirituali e meditative, uno stile di vita sano, cura del corpo. L'evento rappresenta il suggestivo punto d'incontro delle strade che conducono al benessere.